Gentili telespettatori, buona giornalta. L'asse trasversale Forza Italia-Lega-PD per liquidare le larghe intese, governare ed escludere Giorgia Meloni da un prossimo governo. I centristi sognano lo stallo. Davvero Forza Italia-Lega e PD potrebbero governare in nome della salvezza dell'Italia per salvarla dalle grinfie di Giorgia Meloni. Questa è la tesi. La tesi qual è? Noi non possiamo governare insieme, siamo alternativi, ma se la posta in gioco è salvare l'Italia da un governo Meloni, allora gli elettorati dovranno capire che ci mettiamo insieme. Ovviamente non c'è da salvare l'Italia da nessuno perché un governo Giorgia Meloni legittimamente insediato non spaventa nessuno, niente e nessuno. Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, un partito è una persona assolutamente democratici o democraticissimi, però naturalmente per giustificare una cosa del genere devono gridare al lupo, al lupo, sono tornati. E beh, intanto i segretari dei due partiti escludono nuovi governi di unità nazionale. Berlusconi dice il centrodestra tornerà a guidare l'Italia. Enrico Letta e Matteo Salvini li guidano le larghe intese e Silvio Berlusconi ipoteca il ritorno del centrodestra alla guida dell'Italia, dicendo così, l'Italia è protagonista oggi in Europa grazie alla credibilità del governo Draghi, nato, per nostra iniziativa, in un momento di emergenza come espressione di una larga convergenza in Parlamento. E lo sarà domani quando tornerà al governo la nostra coalizione di centrodestra. Il governo Draghi l'ha voluto Berlusconi? Io ricordo che il governo Draghi l'ha voluto Mattarella. Cacchio c'entra Berlusconi. Berlusconi ha accettato di entrare in questo governo, ma accettare di entrare in un governo non vuol dire averlo voluto. Però sapete che questi leader devono autoincensarsi di fronte al loro elettorato. L'ipotesi di altro governo Draghi o un governo di salute pubblica non è però così remota. Clemente Mastella, da oltre mezzo secolo in Parlamento e in politica, pronto a rilanciare la sua battaglia centrista, che fissa già la cornice per arrivare alle larghe intese. Se il centro si unifica e sta sulle sue posizioni, nessuna delle due coalizioni vince. Questo bipolarismo ormai è storto, sbilenco, non regge più a nessuno e più nessuno vince al Senato. Questa meccanica elettorale non consente ad alcuni partiti di esserci e alla gente di esprimere veramente. Esprimersi veramente avverte da Napoli, dove apri lavori sulla sua creatura, noi di centro. È una chiamata le armi per i moderati, una mossa per neutralizzare la vittoria di uno dei poli e favorire la riconferma di Draghi a Palazzo Chigi. Scenario che Matteo Renzi, voi sapete che è un giocatore tra i palazzi, non scarta. E lui se ne sa sempre una più degli altri. E dice così, quella di un Draghi che succede a Draghi non è un'ipotesi da escludere, ma manca un anno e parlarne ora è troppo presto. Le evoluzioni della politica sono troppo rapide, ora concentriamoci sulle cose da fare. Poi da ottobre, novembre, inizieremo ad entrare nel vivo e vedremo chi avrà più filo da tessere. Per Letta e Salvini il Draghi bis non è un'ipotesi da tenere sul tavolo per il futuro. Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento. Dopo le prossime elezioni politiche saranno i cittadini a decidere la maggioranza e noi puntiamo ad avere la maggioranza di centro-sinistra che possa governare il paese, dice. Secondo un progetto riformatore progressista, spiega al leader del PD. Ma capite che voi ricordate i grillini che dicevano mai col partito di Bibiano, che era il PD, e sono andati a governarci. Il PD diceva mai con i grillini e sono andati a governarci. Quindi quando i partiti escludono categoricamente un'alleanza non c'è assolutamente e minimamente da crederci. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ma il segretario della Lega, Matteo Salvini, invece già al lavoro per la squadra di ministri del futuro governo di centro-destra. Ma pensate un po' questo politico qua. Ha il 15-14%, Giorgia Meloni ha il 23%, Giorgia Meloni è il leader di fatto del centro-destra, è il primo partito italiano. Un governo Meloni è la Meloni che decide principalmente i ministri, assieme a Salvini e Berlusconi a cui darà, ne darà qualcuno. È notorio che Salvini non rispetta la gerarchia, lo avete visto in questo governo, lo avete visto nel governo quello con Di Maio e Conte. Lui vuole fare sempre quello che decide, quello che comanda, ma non comanda nulla. Ma lui sta già lavorando a una squadra di ministri. Abbiamo accettato, dice, sto già lavorando a una squadra di centro-destra che riprenda in mano questo paese. Abbiamo accettato questi mesi di sacrificio per il paese, però stare al governo con qualcuno che ti insulta tutti i giorni, che pensa a una tassa patrimoniale, che vuole aumentare le tasse sulla casa, che parla di Jussoli e di DL Zan e di temi da marziani come la legge elettorale, quando oggi le emergenze in Italia sono pace, pace, altre guance e lavoro. Quando Mattarella ci ha chiesto, per il bene del paese, di metterci insieme e di portare l'Italia fuori dalla pandemia, abbiamo detto obbedisco perché non siamo abituati a scappare. Per Carlo Calenda, leader di azione, le parole di Letta e Salvini sono balle. Dicevano la stessa cosa prima di questa legislatura. È ovvio, Calenda ha ragione, ha ragione. La sensazione è che il passo in avanti di Salvini eletta sia una mossa per compattare i propri elettori. L'attuale sistema elettorale non garantisce maggioranze certe in Parlamento. Si rischia una polarizzazione del voto con la vittoria netta del centrodestra al nord e al centro, mentre al sud PD e Cinque Stelle reggono una balcanizzazione parlamentare che imporrebbe la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. Questo è il rischio che vi raccontavo a inizio del video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete con video di politica, notizie fai da te. In questo mese di giugno non ci sono video su Tele Italia Seconda Rete perché realmente non ci riesco in questo mese a pubblicarli. Da luglio ricominceranno almeno uno al giorno, mentre per quanto riguarda Tele Italia su Facebook continuano le condivisioni anche lì dei video dopo qualche ora. Grazie a tutti e arrivederci a presto.